Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPLi, dove per lavori si segnalano due chilometri di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze e un chilometro di coda tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze. Rallentamenti per lavori tra la diramazione per Pisa e Colle Salvetti in direzione Livorno. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per lavori tra Roncobilaccio e Aglio. È temporaneamente chiuso il tratto lungo la statale 1 Aurelia al chilometro 350 e 700 a Viareggio in entrambe le direzioni per un veicolo che ha preso fuoco. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!